Ivan Pedrelli potrebbe diventare un calciatore della Nocerina subito dopo Ferragosto. Radiomercato parla di un'accelerazione nella trattativa con il calciatore Club Sannita da parte del direttore sportivo dei Molossi, Ivano Pastore. Con Pedrelli si chiuderebbe il cerchio per la pedina mancante al gruppo a disposizione di mister Auteri. La Nocerina ha infatti bisogno di un giocatore che possa giocarsela alla pari con Manuel Scalisi, dichiarazione detta e ridetta dal DS dei Rossoneri già da qualche tempo. Difficile arrivare a Petrassi del Padova, complicato l'afferrantonazzo col Taranto, Pedrelli, già esperto di Serie B, categoria affrontata con Bologna e Verona, avrebbe i connotati giusti per diventare l'elemento nuovo della rosa di Auteri. Identikit tracciato, quindi Pedrelli sull'uscio a meno di clamorose sorprese. La Nocerina starebbe trattando due ipotesi, o prendere l'esterno in comproprietà dal Benevento mettendo sul piatto qualche prestito, magari quello di Petrilli oppure di Cavallaro, oppure credere fermamente nel giocatore bolognese e acquistarlo a titolo definitivo. Ma sarà poi finito il mercato della Nocerina? Chissà, con spazi aperti, fino al 31 agosto il sodalizio rosso-nero potrebbe guardarsi attorno pensando di mettere a segno altri colpi. In uscita invece c'è sempre la questione riguardante Ripa. All'attaccante ex Sorrento non mancano di certo le offerte. Il suo procuratore Maurizio De Rosa, contattato telefonicamente, pare abbia avuto un incontro con Susini e Pagni, contattato anche dalla Ternana, anche se resta l'Avellino, la squadra in pole position per averlo. Intanto Sardo è finito definitivamente al Catanzaro, mentre Pepe potrebbe accasarsi al Viareggio, squadra che ha affidato la panchina quest'anno all'ex Scafatese e Cavese a Genore Maurizzi. Intanto ieri sera la Nocerina ha battuto 6-0 in amichevole ad Agropili, la locale squadra con in evidenza il solito brasiliano Farias.